E ciao! Siamo su Minecraft! E oggi sono solo. Sì, sono. Ciao! Cos'è? Chi è? Ah, ancora. Un'altra volta. Sì, siamo insieme. Vi faccio vedere, ci sono altri amici e ne manca un amico. E oggi siamo in una nuova nilla, quella super mega ultra grafica, vedete? E reborn picchia le pecore. Io vado a prendere il legno per tutte e due. E reborn, hai preso le pecore? Qui c'è la grafting. Per fare, come si dice, non mi viene. Per fare i letti, intendo. E oggi siamo anche nella versione 1.17.1, quindi ci sono ghiazzolato. Che appena sono tornata a cominciare a piove? Perché il mondo non ti vuole. Vedete quanto è bello quando piove, anche l'acqua, guardate. Vedete quanto è bello. Allora, poi, faccio il piccone. Ah, anche per te te lo faccio. Per cosa? Ci ho fatto il piccone anche per te. Intanto io sto già prendendo le cose per fare la casa. Le spade. Anche un momento di fama. E poi faccio le asce per tutte e due. Perché siamo belle persone. Allora, questo è... Allora, questo è tuo, questo è tuo e questo è tuo. E sei il pesetto. Bene, pica. Devi allontanare. Riprendendo la grafting. E... Uccidiamo un po' di pecore. E domani... Cioè, forse oggi, non lo so, quando esce il video. Ci trovate live. Comunque, il 30, martedì 30, ci trovate live. E quindi passate. Oh, un villaggio. Aspetta, ma oggi è 30. Ah, allora è domani, 31. E... Reborn, vieni? C'è un villaggio. E arrivo. Mi sono chiuso dentro con la caverna. No, esci, andiamo al villaggio. C'è blocchi sopra la testa. Dal mio video si fredda molto. Eh no, ci sono io che sto smettando. Perché c'è blocchi sopra la testa. È vero, passerei anche sul canale di questo qui. Di Reborn, vi lascio il link in descrizione. E passerei anche sul canale di Nick. Di Nick? Che anche lì trovate il suo video. Vieni Reborn. Vieni, 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 vieni. Andiamo che ci sia il fabbro, così lo svierung lo spiello proprio. Sì. Allora, tu prendi le torce del villaggio e quelle intanto ci servono. È grano! È grano, sciogliere il grano. Eh sì, il grano, sì. Sciogliärmile il grano. Quindi, prendi fieno e... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepecele Beh, ce l'alambico, ma la dai? Certo. Un golem! Faccio la tattica suprema di super mega ultra master di minecraft. e ce l'abbiamo che le realtà la usiamo tutti ma vabbè ma adesso ma dai malucchi adesso con più e vabbè ma dai ma soggettissimo picchia picchia golem ferro ferro c'è un problema ferro ferro c'è un problema e cos'è e che dopo io se prende tutto quanto il grano come hanno già il ferro hanno scusa ho preso un letto per me prendi né uno bianco che dopo faccia viola e chi non lo sapesse le patate della pietra prendi le torce prendi le torce e pieno anche fiori anche il legno scuro di qualche scuro che poi lo so che io credo per la nostra casa la faremo qua noi fa una casa e abnorme ricordi quella della vecchia mani l'azze ecco quello i partiti fatti una domanda di torce le torce ci servono le sto prendendo le torce mettiamo qui così ci fanno luce perchè oggi abbiamo anche dei sceglie e tutta questa graffina io non ce le ho dopo mi passi io dopo i passi ho tutto ok cos'è se facili così le torce cadono si lo so per legno quelli che faccio la zappa per prendere tutto il grano perchè sono già tanto tu hai anche l'altra campana passami un po' di grano ma aspetta grano o balle vieni te lo buttate là quanto stiamo facendo in arrasciata hanno detto tranquilli deve essere una vanilla non correte non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel video alla fine ho ucciso Reborn e non ho fatto l'outro, quindi la faccio adesso e ciao.